questa, la apriamo e vediamo un po' bagnatina sì, c'è parecchia umidità come dicevo prima anche penso le corde vocali ne risentono mettiamola dal dritto che magari va a dire meglio allora, premio Nando Scarfiotti al miglior lavoro oh Dio mio, della corsa grazie è ripartito, ok ecco lì è un bel giro perché il palco è grande e poi se si hanno i tacchi è ancora più difficile allora, perché seppur non rappresenti un lavoro squisitamente brillante affronto un testo che invita lo spettatore alla riflessione sulle questioni fondamentali dell'esistenza alternando momenti ironici a momenti di profonda commozione aprendosi in un finale di speranza di cui tanto in questi tempi si ha bisogno consegna il premio Paola Cosimi, si teniamo il microfono grazie sì perché poi è un bel premio grande quindi le mani devono essere libere io non so più dove andare però per non stare nelle foto no, grazie sì, ridiamo il microfono no, vabbè, insomma io ho finito già ho problemi col microfono ho finito qui allora, grazie a voi penso che ci sia ancora io volevo un attimo chiamare di nuovo l'organizzatore Stefano Cosimi per un saluto finale volevo averlo qui sì, Stefano allora, soddisfatto della serata? io sono soddisfatto della serata non ho visto niente perché sono stato sempre in castigo qua dietro io sono soddisfatto di tutto l'andamento generale non mi aspettavo anche perché questi signori io li conosco bene e ho passato tutto il tempo a dire guardate che è un errore non dovete partecipare mi dovete ridare indietro i soldi quindi non avevo la minima idea ecco, ritrovarli qua credo che sia un errore ancora allora sì, in chiusura di serata dobbiamo fare dei ringraziamenti dobbiamo allora, il ringraziamento congiudare c'è sempre un problema per mettersi d'accordo tra moglie e marito io vi lascio il microfono grazie all'amministrazione perché oggettivamente fanno un grosso sforzo secondo loro in realtà potrebbero farlo anche più grande si può fare sempre di più però, ecco però, grazie un grosso grazie è chiaro, va dato al pubblico molti ormai sono degli affezionati abbiamo costruito uno schedario con quelli che sono interessati appunto al festival forse vanno scongelati stasera forse vanno scongelati ecco, li scongeliamo però bisogna ringraziare in realtà i membri della neonata associazione la Torre che ride che a partire dal vicepresidente che stasera mi ha detto io non parlo non sono abituato a parlare in realtà non finiva più Adriano Morichetti che è stato veramente però vi devo nominare tutti io che sono stati bravissimi Adriano adesso l'ho nominato in realtà non ha fatto quasi niente però dobbiamo cominciare da chi gli è accanto che è Michela ecco Michela Mortoni forte Michela senza cognomi Maria Maria Lidia e poi Mattia Battolini chi altro Beatrice dov'è? Beatrice Elia ed è determinato l'elenco se no senza è determinato l'elenco appunto però vogliamo anche ringraziare chi ha lavorato come come giurato i giurati non si dice chi sono perché non sono mai molto popolari il giurato è popolare solo per chi vince lo dobbiamo dire io sono contento per i risultati personalmente potrei anche avere altri però credo che abbiano fatto un buon lavoro in ogni caso io sinceramente ho visto cinque lavori fatti bene questo è quello che conta però le scelte sono locali legate a fattori potete immaginare sia la scelta iniziale che viene fatta sui DVD a volte ci sono dei DVD che sono girati in modo in pratica sono dei capolavori da un punto di vista della regia cinematografica perché i punti di vista sono diversi in realtà lo spettatore vede il lavoro poi dal vivo sempre e solo da un'unica posizione e quindi la controprova se un lavoro è buono veramente se è valido uno ce l'ha solamente quando gli attori si esprimono sul palco e a volte ci sono delle sorprese negative questo va detto altre volte invece delle sorprese positive io credo di aver visto cinque bei lavori correndo da un lato all'altro però io sono veramente soddisfatto mi dispiace magari se qualcuno può pensare di aver reso meno di quello che si attendeva io dico di no sono stati degli spettacoli che hanno veramente trovato un consenso nel pubblico quindi grazie 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 piccol'ultima cosa a chiusura del festival è stato al di là del tempo della pioggia delle difficoltà che comunque abbiamo avuto è stato tutto tutto perfetto tranne una cosa Stefano Cosimi è un errore e quindi ancora grazie a tutti io volevo anche ringraziare la mia balletta Belen Sabrina Maria o come ti chiami lei invece è Giulia grazie 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 grazie